Sergio Staderini il prossimo primo giugno risponderà alle domande del PM, ma anche a quelle del GIP e degli avvocati difensori degli altri imputati e racconterà così ancora una volta la sua verità, senza dubbio una delle più attese. In quella data infatti il giudice Claudio Lara ha fissato l'incidente probatorio per l'ex presidente di Coingas, che tramite il suo legale ha già chiesto il reto abbreviato. A richiedere l'incidente probatorio era stato il procuratore Roberto Rossi ed oggi il giudice Claudio Lara ha colto l'istanza. Sergio Staderini lo scorso autunno era già stato ascoltato dal PM. Le sue dichiarazioni avevano fatto emergere in molti aspetti ancora tutti da chiarire della complessa vicenda, che era partita dalle cosiddette consulenze d'oro ed approdata poi a due filoni che hanno portato anche a destra e molti servizi. Le parole pronunciate dall'ex presidente avevano portato la procura a chiedere di integrare anche il capo di imputazione del presidente di Estra, Francesco Macri. Sempre il prossimo 1 giugno, su richiesta del legale difensore, sarà interrogata anche un'altra imputata, Mara Cacioli, ex contabile di Coingas, richiamata dalla pensione. Già calendarizzate infine le prossime date della lunga udienza preliminare del processo che vede tra gli indagati nomi eccellenti della politica retina, tra questi anche il sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli, 16 invece comuni della provincia che si sono già costituiti parte civile, con l'aggiunta negli ultimi giorni di quello di Cortona. Grazie.